da qui in poi ci vogliono le corde vado ad abbrisco, manchi aperto, compro un tappeto e ti mando la foto per farti vedere come è cazzo un tappeto dai che adesso inizia il trutto un tappeto 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 tappeto un tappeto un tappeto adesso quando lo fai una volta così ti fai prendere anche dell'entusiasmo capito e guarda a casa ti ricordi solo per farti solo il bello ma in effetti vado ad abri come è aperto compro un tappeto e ti mando la foto per farti vedere come è cazzo un tappeto